Un saluto dal TG della mobilità per il rinnovo dei quadri elettrici sulla metro A. Da oggi e sino a domenica la stazione di Repubblica resta chiusa. In alternativa si potrà utilizzare la fermata di termini. Veniamo alle altre notizie. Dalle 7 alle 10 e poi dalle 16 alle 19 sono attive 14 linee di bus S. In strada con vetture Gran Turismo e pensate per agevolare gli spostamenti degli studenti tra i principali snodi metro ferroviari e la zona della stazione Termini, le linee S sono comunque a disposizione di tutti gli utenti del trasporto pubblico. A bordo si sale con biglietti e abbonamenti metrobus validi per la zona tariffaria A, ovvero quella di Roma. Maggiori dettagli sui percorsi delle linee S sono su romamobilita.it. Grazie a tutti.